Buongiorno, benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 26 agosto, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Allora, il tema fondamentale della giornata, secondo il Corriere della Sera che ci apre il suo prestigioso giornale, è il seguente. Allarme contagi in discoteca, cioè il tema è che ci sono dei contagi in discoteca che sono state chiuse, sono state aperte per volere il governo, poi sono state chiuse e il problema fondamentale è allarme contagi. Buongiorno, Simona, l'allarme contagi nelle discoteche, posto che molte delle persone che sono in discoteca, tranne una, pare, Flavio Briatore, sono positive ma non ammalate. Vedete, poi oggi bisogna leggere il Corriere della Sera che ci dice allarme contagi di discoteca, cosa è successo? 58 positivi al billionaire! Poi dopo vai a prendere un altro giornale, non certo di quelli che a me stanno simpatici, cioè il Manifesto. Ve lo ricordate il Manifesto del Partito Comunista che esce tutti quanti giorni? Bene, sapete come apre il Manifesto di oggi? Apre contro le discoteche, contro Briatore, contro questi cattivoni? No, apre contro AIA. AIA è un'azienda fantastica, favolosa, che produce i polli in Italia, uno dei leader mondiali, la difenderò sempre finché campo! Ma AIA, cosa è successo a questa grande azienda italiana? che nel suo stabilimento ci sono 184 positivi, cioè nel solo stabilimento dell'AIA ci sono 184 positivi! Ma siccome l'AIA forse, a differenza di Briatore, non rompe le palle a questa politica, e poi lo capiremo, all'AIA che c'è 184 nello stabilimento, zitti e muti. Ovviamente il Manifesto lo attacca perché odia gli imprenditori, gli sfruttatori, e lì probabilmente sono positivi anche questi, sintomatici, però per il Manifesto c'è il problema dell'AIA. Invece per il serio Corriere della Sera il problema sono i 58 positivi al Billionaire. Perché vigliaccamente, rispetto agli altri giornali che ce l'hanno con Briatore, fanno capire e non capire, perché qui il problema è Briatore. E sapete perché il problema è Briatore? Perché Briatore ha, insieme a Zangrillo e insieme ad altri, ha detto non che il virus non c'è, perché questa è l'altra cosa straordinaria. Cioè, anch'io vengo definito negazionista. Io che mi sono preso il cazzo di virus e che sono nelle terapie dello Spallanzani, vengo definito negazionista. Il virus c'è, lo sa anche un bambino piccolo e soprattutto lo sa chi se l'è beccato. Mi fa piacere avere 39 di febbre e respirare male? No! Quindi negare il virus è una minchiata, non ce n'è uno che nega il virus. Men che mai Briatore, ma soprattutto men che mai io. Il problema non è questo. Il problema è, in funzione di questo virus, quanto possiamo cedere delle nostre normali attività e libertà. Questo è il punto, toc toc, che non capisce Travaglio, che oggi gode come un riccio in un articolo scandaloso contro Briatore. Lo si definisce prima negazionista e non è negazionista. Poi dice che fa parte, che è stato ricoverato al San Raffaele nel reparto Solventi. No, perché invece De Benedetti, Berlusconi, Conte, Casalino, i nuovi ministri, il Movimento 5 Stelle, Travaglio, De Benedetti, il presidente dell'Eni, amico suo, verrebbero ricoverati ovviamente in un altro reparto. Sì, sono sicuro. Io sono stato ricoverato per il cavolo, perché non c'era bisogno di ricoverare, ma in quell'epoca erano tutti quanti nei reparti Covid. Ma comunque è stato ricoverato, non va bene neanche che si è stato ricoverato. E poi ovviamente Briatore rappresenta tutta la destra. Cioè è diventato un metro a pensè di tutta la destra. E poi dice la solita destra impresentabile. Quindi negazionista, ricoverato da San Raffaele, tutta la destra è uguale a lui, e lui e questa destra è impresentabile. E poi la minaccia, la minaccia è fantastica. Nell'ultimo pezzo di Travaglio, poi inventeremo, poi faremo l'inventario dei morti e dei feriti di questa campagna negazionista. Cioè lui fa l'inventario dei morti e dei feriti di questa campagna negazionista. Toc toc! Oh, ma ti ricordi gli amichetti tuoi, quelli là che pensano di essere te stesso? Quei cerebrolesi che sono i tuoi collaboratori che dicevano che non c'era il virus. Tuoi! Tuoi! E che poi dopo hanno fatto finta che il virus ci hanno fatto pure una campagna. Cioè veramente. Quei morti di fama sociale. Hai presente quelli, Travaglio? Ecco, quelli che dicevano che non c'era il virus. Hai presente che la tua collaboratrice Gismondi, un'ottima virologa, dice che era poco più che un'influenza? No, non se lo ricorda. Glielo ricorda oggi Sallusti, che sul giornale dice questa campagna d'odio in cui se erano Zingaretti, se era Gori, se erano la Gismondi, se erano la Capua, se era la Sala a dire che si doveva ripartire ed eravamo prima del lockdown e lì ci sono stati un sacco di morti, zitti e muti perché erano amichetti vostri. Ora che non ci sono morti, ieri 4 morti, 860, 78 contagiati, 66 in terapia intensiva, cioè in realtà i contagiati non vanno in terapia intensiva, questi sono degli assassini, poi faremo l'inventario dei morti e feriti della campagna negozionista, ma quale? Facciamo invece di quegli amichetti tuoi che dicevano che era un'influenza prima che arrivasse, se vogliamo proprio farla tutta, ma queste cose ovviamente non gliele puoi raccontare, anche perché tutto passa e sapete perché oggi ho letto la seguente cosa dell'intervista della Capua, che è totalmente ovviamente inutile, una pagina intera del Corriere della Sera, la virologa Capua che ci parla da Miami, uno diceva ma chi è questa virologa Capua? Questa ha subito una grande ingiustizia quando l'avevano arrestata, il fatto era ben contenta come spacciatrice di virus e poi era innocente, se ne è scappata, se ne è andata a Miami, poi era diventato un mito questa Capua dei salotti chic, ma la cosa è incredibile che questi hanno perso completamente il senso della realtà, il giornalista che oggi dedica una pagina alla Capua, non a Conte, non al Ministro degli Esteri, non a Donald Trump, alla Capua, che come dire dare una pagina a chiunque, ne trovi 500 di virologi, lei dice la Capua, vi giuro, vi giuro, sul Corriere di oggi, la Capua concede uno slot della sua fitta agenda, la Capua concede uno slot della sua fitta agenda, la Capua stava là a ballare a Miami Beach, no, sto scherzando, sicuramente stava in un laboratorio a studiare, a ballare così a Miami Beach, no, sicuramente stava in un laboratorio e c'ha una fitta agenda e quindi concede uno, lo slot della sua fitta agenda, io lo trovo fantastico, ma i giornalisti, ma, ma che cavolo stai parlando con il Presidente americano? Concede uno slot della fitta agenda per poi fare un'intervista di una pagina in cui non concede nulla ai lettori, perché non dice niente, nel frattempo parliamo di cose serie, le scuole, non abbiamo capito niente, niente, ma lo dicono tutti i giornali, scuole, il messaggero, eventuale chiusura scuola deve essere decisa da Roma e non dalle regioni, beh, vabbè, perfetto, la febbre deve essere misurata a casa, poi dopo vediamo, caos banchi, ma il caos banchi questa volta non lo dice un pericoloso giornale di destra, il sole 24 ore, tre domande a der commissari, oh oh, e sapete quali sono le tre domande? Uno, che ha vinto l'appalto? Due, è cambiata la tipologia di fornitura rispetto a quella prevista in gara, tre, saranno rispettati i tempi di consegna, cioè tre domande banali che il sole 24 ore fa a der commissari Arcuri, sapete perché? Hanno messo il segreto sull'appalto, cioè questi fanno un appalto pubblico, una gara europea, poi finiscono l'appalto, che è la cosa più opaca, è stata, l'hanno aumentato i cinque giorni, dovevano essere tutti consegnati 8-8 settembre, 2 milioni e 4 di banchi, in Italia se ne fanno 200 mila, tutte le cose che ci ha spiegato Capone sul Foglio per mesi e questi cosa vanno finito l'appalto? Lo secretano, se poi vi sembra una cosa normale, questa cosa sembra normale ovviamente a quei quattro malvissuti del fatto quotidiano, ma voglio dire è una roba pazzesca, financo il Foglio che è il giornale più amico di Conte, con Capone continua a fargli toc toc a sto governo, ma che cosa sta succedendo? La Capone non si occupa direttamente di ricerca, ha un incarico. L'altra cosa bellissima e quindi oltre al caos banchi c'è il caos scuola-bus, questo invece ci dice il quotiano nazionale, quindi non si sanno quando aprono, non si conoscono i protocolli, non si sa quando si misura la febbre, non si sa se arriveranno i banchi e non si sa come dovranno stare nei scuola-bus, se dovranno fare la febbre prima o dopo, se negli scuola-bus dovranno essere più o meno distanziati. In tutto questo 3 miliardi di Euro buttati nel cesso e dati ad arcuri perché mi spenda per i banchi, siamo paese di pazzi. Vabbè, della scuola non sappiamo ancora nulla, sappiamo però, ce lo dice il messaggero, che dal 15 ottobre arriveranno 9 milioni di cartelle esattoriali, ma anche perché sono state bloccate fino ad ora, quindi è abbastanza inevitabile, non è che mi scandalizzo di una cosa, siccome per sei mesi non le hanno mandate dovranno arrivare tutto di un botto, però è un bel casino, tant'è che si inizia a parlare di pace fiscale. Siamo in un momento in cui, secondo il decreto liquidità, che era composto, dice il Corriere della Sera, scusatevi, figuratevi, il sole 24 ore è sul decreto di Guida, vi ricordate quello del lockdown? C'erano 8 decreti attuativi, sapete quanti ne hanno attuati? 0! Ve lo rispiego, 8 attuativi, sapete quanti ne hanno attuati? 0! E sapete quanti di questi 8 sono scaduti e non si possono attuare? 5! Adesso vi rifaccio il disegnino, 8 decreti attuativi questi geni, quanti ne hanno attuati? 0! Quanti sono scaduti? 5! Quanti ne rimangono? 3! Li attueranno mai? Boh! E questi, capito, fanno le leggi e poi dicono che sono state attuate, stupendo, decreto liquidità. Sul referendum invece è il grande tema politico di oggi e lì ci sono tutti i nostri professori giornalisti che fanno un pochino di pulci alla politica, perché obiettivamente il Parlamento ha votato a larga maggioranza la riduzione dei parlamentari, questi deficienti hanno votato la riduzione dei parlamentari e oggi lasciano libertà di coscienza e allora lì c'è ragione, come si chiama Pierluigi Battista, il simpatissimo di Battista, no Battista, sul Corriere della Sera, perché dice ragazzi ma che vuol dire che lasciate libertà di coscienza sulla riduzione dei parlamentari, mica stiamo parlando di un tema etico, stiamo parlando del funzionamento del Parlamento, ma siete matti, quindi io devo dire che oggi ha proprio preso l'unico taglio che si potesse prendere. Poi lui, Sorge e tutti gli altri mettono le contraddizioni, la Lega che ha votato quattro volte a favore del taglio dei parlamentari, ma come fa a lasciare la libertà di coscienza? L'Italia dei Valori che ha fatto la riduzione dei parlamentari con il suo referendum lascia libertà di coscienza, tutto il casino che sta facendo Forza Italia, con cui i Carfagnani sono per il no e soprattutto io più che i Carfagnani direi uno per tutti, Simone Baldelli che sento e ho visto in tempi non sospetti che fa una campagna disperata per il no, lui ha sempre detto il no, ma Forza Italia è indecisa, alcuni per il sì, altri per il no, insomma questo dà il senso di una mancanza di liberership da tutti quanti. Zingaretti oggi fa una pagina e mezza su Corriere della sera per dire tutto il contrario di tutto, ma soprattutto dire una cosa, lasciamo, decideremo la settimana prossima, si può votare almeno su una Camera la legge elettorale, perché se non si vota la legge elettorale non ha senso, come possiamo dire, non ha senso fare la riduzione dei parlamentari, io trovo che questa cosa del referendum sia la misura della ridicolaggine di tutti i partiti tranne del Movimento 5 Stelle, avete sentito bene, tranne che del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle questa cazzata l'ha valuta dal primo istante, l'ha fatta votare a tutto il Parlamento, il tutto Parlamento come dei pecoroni l'hanno votata e oggi non sanno che cosa fare, chapeau politicamente al Movimento 5 Stelle, perché ha portato a casa un risultato che gli altri partiti balbettano, perché io capirei quelli duri e puri che dicono no, votiamo no, ce ne fossero, non ci sono, baldelli di Forza Italia, gli altri zitti, quelli che dicono la libertà di coscienza, facciamo prima la legge elettorale, è la sacrosanta vittoria politica di un Movimento inesistente, contraddittorio, ma che su questo ha vinto, e gli altri che fanno pippa, come si dice a Roma, rete unica Telecom, è il vero tema politico ed economico di queste ore, pensate un po' voi, anche questo messo in agenda da una dichiarazione estemporanea di Grillo, De Rosa e Pons, come i vecchi tempi dell'Opa Telecom, i grandi esperti di telecomunicazioni scrivono che cosa succederà, sostanzialmente devono mettere insieme la rete di fibra fatta dall'Enel con la cassa depositi e prestiti e la rete di fibra è l'ultimo miglio che ha sempre avuto Telecom, chi comanderà in questa roba messa insieme è un casino, secondo MF il 51% sarà di Telecom ma comanderà la cassa depositi e prestiti, insomma è una vicenda molto complicata ma che nelle prossime settimane dovrà svolgersi. Nel frattempo due notizie stupende secondo me, la prima è l'incontro di Di Maio con il suo omologo cinese Wang Ji se si pronuncia così, insomma è questo incontro secondo Merlo del Corriere, Merlo del Foglio in un lirico pezzo dice che Di Maio ha tenuto la schiena dritta su Hong Kong la stampa Di Maio gela Pechino, tutte minchiate, basta leggere Capezzone ma anche le norme, le piccole cose che sono raccontate in cui Capezzone dà questa idea secondo me straordinaria di quello che è avvenuto, uno srolotolamento del tappeto rosso nei confronti dell'omologo cinese da parte dell'Italia che è il primo paese nei confronti dei quali questa visita di Stato è avvenuto e anche qui bisogna dare atto alle cose che avvengono, i grillini sono amici dei cinesi? Sì, preferiscono i cinesi agli americani? Sì, hanno fatto di tutto perché questo sia pletalmente chiaro? Sì, ce la prenderemo come posto degli americani? Certo, hanno vinto politicamente questi cinesi con i grillini e gli altri zitti e muti, peraltro anche il foglio, cavolo, e la stampa fanno finta di non capire che ieri il fatto che siano venuti per prima cosa in Italia e che ci sia stata una battuta così generica su Hong Kong dove non è che sta avvenendo una cosa da niente, a Hong Kong stanno reprimendo tutte le libertà contro tutti gli accordi fatti con gli inglesi. Tra l'altro, cosa ha detto ieri Wang Ji a Di Maio che per un secondo dovete leggere il pezzo lirico, si è tolto la giacca, si è tolta anche l'altro, si sono guardati, la ruga, ma non fate questi pezzi lirici, dite la verità, la verità è che se ne sono fottuti ieri degli Hong Konghini e che quando Wang Ji ha detto a Di Maio non vogliamo ingerenza e quello ha fatto zitto, muto e ha parlato del 5G e delle cose che interessano economicamente e anche legittimamente quel partito. Rosario va bene, Rosario non Fiorello ma è Rosario, quello che i cattolici irlandesi tengono appeso al collo e addirittura sul polso, va bene, dice Renato Farina, oggi in un bellissimo pezzo sul libero, quando a tenerlo è John Biden, nessuno lo prende in giro, ma se lo tiene Salvini e lo mostra a Salvini è un problema, se lo fa Biden invece, vicepresidente che potrebbe diventare presidente americano, zitti e muti, i nostri grandi laicisti di quello non si occupano. Palamara, oggi i giornali ricordano la richiesta di processo per 7 anni di lusso, come lui stesso ha definito la sua vita negli ultimi anni grazie a viaggi, alberghi, insomma la scrocconaggine che per qualcuno può essere considerato illegale, per altri più o meno, chissà se lo è per un magistrato e oggi è sotto accusa. Basta sussidi, abbassare le tasse, la storia del ristoratore che oggi racconta sul tempo, la possibilità di non trovare i ristoratori, i camerieri perché quelli preferiscono per quanto dura ancora stare in cassa integrazione invece che lavorare. Allora, perché non si sono basciati? Dice Vanessa, vedrete quando ci saranno tutte le lampade rosse, ho una prostatite, ci sono ancora le mattie e vari problemi di salute, speriamo che gli usi sbarchino in Italia per liberarci, dice qualcuno di voi, io vi dico che c'è ora un pezzo, secondo me, sulla questione ebriatore di Gervasoni sul mio sito nicolaforro.it, andatevelo a leggere perché è la prima notizia del nostro sito. Ciao a tutti quanti voi!